Io sono aretino, vivo per la mia città e sono fiero e tornare qualche volta mi riempie di orgoglio e anche di gioia. Ed è stato un ritorno particolarmente generoso quello di Roberto Fabriciani Adaghezzo insieme a Gianni Fratta e Giovanni Goselli insieme per sostenere i progetti sul dopo di noi di riconoscersi Ollus. L'appuntamento è andato in scena alla chiesa di Santa Maria della Pieve Adaghezzo, una serata organizzata dal Rotary Club. Uno storico concerto per Roberto Fabriciani alle prese a breve con un importantissimo progetto legato al cinema. Ho già composto, se ne parlerà molto, non voglio anticipare, ma si tratta di un film dove io anche prenderò parte integrante del film insieme a uno dei più grandi registi del mondo. Parla di voodiale. Non voglio dire, comunque sì, è una cosa specialissima. Sono nato come flautista e compositore, poi ho abbandonato la composizione per così dire, cioè l'ho abbandonato ufficialmente ma ho continuato a comporre per dedicarmi più al solismo, al concertismo che mi ha impegnato molto. Solo in questi ultimi tempi ho ripreso, diciamo, anche su richiesta, insomma, su sollecitudine, e ho ripreso con grande piacere a comporre.